Salve a tutti ragazzi bentornati su Break2Playery, eccoci qui con The Witcher 3 Wild Hunt e siamo vicino a Bianco Frutteto e stiamo andando a fare una missione secondaria che si chiama Disperso Dobbiamo trovare questo tizio, se non sbaglio Disperso l'abbiamo avviata nel momento in cui abbiamo letto la bacheca di Bianco Frutteto E comunque adesso iniziamo a capire come mai si chiama Bianco Frutteto, come vedete è pieno di alberi bianchi e quindi è proprio per quello che si chiamerà, penso, quel nome lì, insomma, abbastanza chiaro Ok, seguiamo la strada fino a raggiungere il nostro obiettivo, dobbiamo ripassare dove abbiamo ucciso il grifone, cioè dove abbiamo ferito il grifone e dove il grifone ha ferito anche Vesemil se vi ricordate E ritornare indietro nel luogo dove abbiamo incontrato per la prima volta dei popolani, dove c'era il tutorial del cavallo nel secondo episodio che abbiamo qua Intagliamo di qua, seguiamo, esattamente, oltre il ponte, è un ponte, state tranquillo Ok ragazzi, attenzione che abbiamo dei mostri Immagino che siano dei drauner Ahia, ahia Ok, questo, bene Per fortuna non ci ha fatto troppo male questo da dietro, infatti stavo continuando a colpire finché non mi deriva Decapitato, rifornirsi di oggetti, i guanti a pozione e buombe si consumano con l'utilizzo e possono esaurirsi, per rifornirti di questi oggetti entra in meditazione Se hai dell'alcol distillato nell'inventario verrà usato automaticamente per creare una nuova fornitura degli oggetti a chimici che possiedi Cioè, ah come vedete ragazzi abbiamo 2 su 3 rondine, quindi se abbiamo dell'alcol Essenza elementale intanto che abbiamo, e poi abbiamo qualcos'altro Lingua di drauner, c'è pelle di drauner E abbiamo un Che coso nell'acqua che contiene della pelle di cervo Sì ma non c'è altro E gli oggetti di quel drauner lì Occhio di mostro, ok Dicevo, quindi, otterremo sempre 3 pozioni rondine se ci riposiamo Io però come faccio a tornare di sopra? Non è stata una grande mossa questa Forse qui sotto al ponte troviamo il modo di risalire C'è modo, vero? Non volevo invischiarmi in guai troppo grossi Allora, qui abbiamo dei funghi Guardiamo un pochino di esplorare Siamo qui ad esplorare ragazzi Ce la stiamo prendendo molto con calma Anche se stiamo inseguendo Yennefer Però vogliamo appunto carpire ogni segreto di queste lande E recuperare il recuperabile Allora, questo Raccogli i fiori? Ok Allora, andiamo di sopra E andiamo Qui abbiamo anche un luogo da esplorare Andiamo a salire Andiamo a vedere cosa c'è Mostri Spada d'argento Sono là sopra Non so che mostri siano Io direi di fare un bel salvataggio Visto che abbiamo anche poca vita Ok Quindi ritorniamo Qui Merda Dai Prendilo Livello 5 Il trefuto è anche forte Ok Uno via Quello È un altro lupo Grasso di cane Vediamo di salire Come si fa a salire Dobbiamo attraversare quel ponte Probabilmente Che conduce nel nulla No Cioè non ci deve essere un modo di salire Che non ho visto Quindi possiamo saltare Oh Oh Geralt Cosa diavolo Guardate un attimo Se ce lo li fa No Cioè era tipo Glicciato nella parete Riusciva a salire Qui è crollato questo ponte Quindi non saprei come Si fa a raggiungere quel luogo Lassopra Non so nemmeno cosa c'è A dire la verità Vabbè Non importa Proseguiamo di sotto Quindi andiamo a parlare Con il tizio della missione Che si trova qui Ciao Dune Va bene Doan Do that often Talk to your dog It's my brothers Bastion's But Guess he's mine now See Bastion fought the Black Ones In a battle Just outside the village Haven't had word of him since I told him Do like I did Lose a finger or two So they won't recruit you Too Damn afeard he was Bloody hell Oh I'd walk the battlefield if I were you I did Sea of corpses and corpses feeding Someone told me they were feared of fire, so I took a torch tried to chase them off horse shite to tell you Would have ended up eating alive if it weren't for her saw here Listen guessing you carry those swords for more than show come with me keep the ghouls off Help me find Bastion, and I'll pay you well Fine I'll help you just Been a few days since the battle chances we find your brother alive or slim very slim I would have thought but I want to find his body at least So Bastion don't rock there in the Sun with the black ones Meet me on the hill overlooking the battlefield. We'll move on together from there Ok, quindi abbiamo accettato di aiutarlo e adesso, dunque, per soltanto abbiamo delle Drowner, probabilmente, sì Io direi di curarci Il più possibile E provare a fare male A questi bestioli Non cadere, non cadere, non cadere, non cadere, non cadere, eccoci Vabbè, vediamo se ne riusciamo a tirare una alla volta, tipo No Eh, aggratemi No, non vogliono saperne di attaccare Aia, fanno male, fanno male, fanno male, fanno male, fanno male, fanno male Eccoci Dai, ok Sono quattro, ok, due sono morti Due sono morti Abbiamo ricaricato la nostra Nostro vigore, quindi possiamo Vire Con il fuoco Che è molto consigliato contro i Drowner Dai, dai Ok Uff, bene Quindi andiamo a recuperare i recuperabili da questi cadaveri Allora, qui abbiamo qualcosa qui Vedente di mostro Questa fase iniziale è abbastanza Fazzetto di skelle Gellaccio Fregato di lupo Dard esplosivo Facina strappata Per una, ehm Cos'era? Un decotto di strega d'acqua Oren, polvere alchimista Facina del libro Gufo fulvio Corone Ok Le corone per adesso non ci facciamo niente Dobbiamo aspettare di arrivare a Novigrad Scambiarle con Vivaldi Questi possiamo salire, quindi ritorniamo su E abbiamo ottenuto quindi un Ragazzo Ci dici qualcosa? No Abbiamo ottenuto quindi Un oggetto Cioè Abbiamo Una cassa Come si chiamano quelle? Un Tesoro sorvegliato Un tesoro sorvegliato Ok Dunque Tra l'altro Ora che ci faccio caso Abbiamo un sacco di posti esplorati Tutti in questa zona Vedremo di farlo dopo Intanto andiamo Io direi a Spostarci Qui A vedere cosa c'è Andremo a piedi Perché sono 200 passi Quindi Andiamo tranquillamente a piedi Andiamo a bere anche la pozione Facciamo una cosa ragazzi Andiamo a Fare la meditazione Per un paio di ore Abbiamo usato Abbiamo usato Ah l'alcohest È proprio quello Cioè Quell'oggetto lì ci permette di ricaricare le nostre pozioni Infatti adesso abbiamo tre rondini Ok Vediamo di proseguire da questa parte Merda Gull Possiamo creare un unguento Antinecrofagi ci manca Questi fiori rossi Che cazzo so questi fiori rossi Fiore di Bidens Mi sa che ci facciamo poco È una tana È una tana È una tana di necrofagi Ok Abbiamo della scelidonia È un po' un casino perché Con i ghoul forse è meglio usare Ierden Vediamo se ci attaccano Adesso Sono a livello 2 eh ragazzi Quindi sono abbastanza deboli Però sono tanti Aia Aia Aiuto Abbiamo bisogno della rondine Ok Possiamo usare un'altra volta la nostra Ierden No, no, no Cosa stai facendo? Perché mi arrivi a quello lontano E ti lasci dietro i mostri? Ok Vediamo se riusciamo a Non morire possibilmente Ok Un altro Ghoul è morto Ne abbiamo uno alle spalle Vediamo di utilizzare la nostra trappola Aia, aia Merda Parati Ok Vai via, vai via, vai via, vai via Rondine Uh Forse ho messo la difficoltà troppo alta Per le mie abilità ci sta Eh, insomma Ok Ok Ok, dai Vai Uh Raccogli Ok, qui penso che Di dover usare Per liberare la zona Una bomba Cioè, almeno nel 2 C'erano delle situazioni Di tane Da dover abbattere in questa maniera Quindi andiamo a vedere nel nostro inventario se abbiamo le bombe intanto Andiamo a vedere per quanto riguarda le bombe le troviamo in oggetti utili Non ne abbiamo Non ne abbiamo Non ne abbiamo In alchimia Possiamo creare la bomba a Samum Ma penso che serva la bomba a mitraglia Eh Non la possiamo fare Quindi abbiamo solo tipo sprecato tempo Ah no Anche la Samum Va bene, ok Mitraglia Samum Ma stella danzante Posizione davanti Premi A per farla esplodere Eh Non possiede la bomba giusta Esatto Quindi dobbiamo andare in alchimia Andiamo a Samum Andiamo a crearne una E andiamo qui E distruggiamo La Dana del mostro Allontanandoci E quindi Abbiamo ricevuto 20 esperienze E qui non si rigenereranno più questi ghoul Ok Questa è una delle cose che possiamo fare nel mondo di gioco Andiamo a vedere nella mappa del mondo cosa Dove era l'altro punto Si trova qui Quindi andiamo a puntare proprio da quella parte E io direi di fare un'altra bella meditazione Di un Paio d'ore In questa maniera In questa maniera Abbiamo le nostre tre rondini E proseguiamo Attenzione Banditi Quindi sono Probabilmente un accampamento di banditi Accampamento di banditi Esatto Quindi vediamo di Dai mori Aia Perché devono rimanere con uno di vita Ok Via quello Via quello Non mi prenderai Si Aia E tra Ok Quindi abbiamo ucciso questi banditi Vediamo di recuperare i loro Averi E qui abbiamo la cassa Con Oren e Fiorini Però no A quanto pare non è la cassa del No No È la cassa dell'accampamento Si come vedete è diventato grigio adesso Ok Quindi abbiamo liberato questo accampamento Andiamo a proseguire Vi ricordo ragazzi Che questa Ehm Fase È ancora la fase Del prologo Cioè noi siamo ancora al prologo Poi vedremo di proseguire Sono tre atti questo gioco Molto lungo Sessanta cento ore per completarlo tutto Noi probabilmente ce ne metteremo tipo cento Perchè voglio giocarmela con calma Dobbiamo Oh il campo di battaglia Eh si Dicci Cosa troviamo Spada di Bele Dobbiamo andare qui Ah eccoti qui Dune Cosa 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 Oltre a Meno Giù Cosa 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 Cadena e guidiamoci al bastion, ma come on! As soon as we get this done, the better! Ok, cerca gli oggetti che spiccano, fascia smussata, intanto prendiamo un po' di oggetti a giro... Oh, eccolo lì! Merda! Ci sono dei ghoul lì. Ok, quindi la spada d'argento l'abbiamo già fuori, vediamo di esaminare. Ok, ghoul? Dai, quanto di qui ci vuole a morire? Ma perché te ti vieni a mettere in mezzo ai ghoul quando sai benissimo che... Ah no, sei forte! Picchi con un bastone! Andiamo, sto già a metà vita per un 2 ghoul in croce! Oh... Ok... Andiamo di qua... Andiamo a vedere se troviamo uno scudo... Eccolo lì! Ok... Non vedo ghoul nei dintorni, quindi andiamo a vedere questo... Ok, questo... Dunque, no... Vabbè... Andiamo, andiamo! Andiamo a cercare tutti gli scudi rossi... Dove? Dov'è? Dov'è? Dov'è il cane? Dov'è andato? Eh? Laggiù? Ah, ok, ok... Seguiamo le tracce... E raggiungiamo... Lì, ok... C'è una capanna? Ma c'è più! Il mio lieutenant ha chiesto di defecare sul comando... Ballista bolts... Landing all around... And all he could say was... A soldier with a full stomach... Will not step onto the battlefield... Now shit! That is an order! Can you believe it? The cretin! Stop! You're... You're killing me! My... My ribs! It hurts to laugh! That needs a tourniquet... But first... Wanna explain what's going on here? Bastion! Is he... Has this Nilfgaardian captured you? No... He saved my life... I got a cut to me side... And then got hit in the head... Couldn't see anything... Rosinia... Found me as... As he crawled across the battlefield... His legs twisted... And so we were... Blind man... Leading a cripple... Found this place... I'm taking you home... We need to see to these wounds... I won't leave Rosinia... Alone he'll die... And he can go back to his own... He's deserted... They'll hang him... And what if they find him with us? They'll hang us all... My Laisha included... No... The Blackened stays here... Bastion only made it with the Black One's help... Maybe you ought to show him Nordlings aren't as barbarous as Nilfgaardians make us out to be... Well... I could give him our powers close... Teach him to work the field... But... That accent... Fine... I'll take him in... Thank you Witcher... Your reward... And the gods protect you... Ok... Completata quindi questa missione ragazzi... Allora... Abbiamo... Da... Completare altre missioni... Delle missioni secondarie... Non me lo ricordo... Perché abbiamo la caccia al tesoro... Livello suggerito 4... Non ci siamo... Ok... Eccoci qui... Stiamo ragazzi... Uscita la missione... Abbiamo completato la missione... Siamo venuti qua a Nord... Eh... Poco a Nord... Siamo praticamente... La capanna è questa... Abbiamo fatto questo pezzo per uscire... Perché volevo andare a esplorare questa zona... Ci sono ben 3... Punti interrogativi... Che dobbiamo esplorare... Lasceremo questa P più avanti... Vedremo di esplorare intanto questa zona qua sopra... E magari di riuscire ad arrivare da queste parti... Capire cosa c'è... Ok... Quindi... Andiamo a scendere da cavallo... Ci sono dei ghoul... E una trap... Eh... Ci servirà appunto di posizionare una trappola... Vediamo di bere una rondine... Eh... Che è detta così anche brutta come cosa... Posizioniamo una trappola a Irden... E vediamo di... Fare più danno possibile velocemente a questi ghoul... Del manga... Ok... Vediamo un'altra rondine... E posizioniamo un'altra trappola a Irden... E vediamo di picchiare questo ghoul... Il più velocemente possibile... Uh... Ok... Sono finiti? Bene... Abbiamo un luogo di potere... E una... Tana di ghoul... Ok... Quindi facciamo intanto scoppiare la tana di ghoul... Perfetto... Che è? Oh... Sono usciti due ghoul... Non me l'aspettavo... Ok... Non colpire... Ok... Uh... Diviso in due tra l'altro... Bello, bello... E qui abbiamo un potenziamento del segno... Eh... Che segno è questo? Ok... Ok... Tenere premuto... Interagisci... Eh... Bene... Potenziamento... Non ce lo dai? Ah... Dobbiamo proprio tenere premuto... Ho ottenuto un punto abilità e segno... Ok... Potenziato per 20... 30 minuti... Quindi andiamo a personaggio... Andiamo a potenziare il... Questo... E a posizionarla nel primo slot... Quindi abbiamo aumentato i danni che facciamo... Con le nostre spade... Abbiamo esplorato questo nostro... Primo punto interrogativo da queste parti... Andiamo a posizionare un bel... Segnale qua sopra... Più o meno per capire dove si trova... E andiamo a riprendere il nostro cavallo... Che si trova qui... Ok... Andiamo all'Utilia... Andiamo a esplorare questa zona... Dentro la foresta... Qui non ci passiamo... Ok... No... C'è un bel dislivello qui... Vediamo se c'è un modo di salire... Ponte della Ridacchiante... È chiuso... Vediamo se ci fanno entrare... Vediamo se ci fanno entrare... Messo... Ehm... No... Immagino di no... Quindi... Dovremmo... Tornare indietro da un'altra parte... Abbiamo il viaggio rapido qui... E vediamo di tornare indietro... E andare... Abbiamo un viaggio rapido... Il ponte del Canto Dolente... Mmm... Dunque... Facciamo una cosa ragazzi... Andiamo a esplorare invece questi qua sotto... Quindi andiamo al villaggio saccheggiato... E andiamo nel ponte a sud... Quindi lasciamo perdere questi più a nord per dopo... Sono... Mh... Su un'area più ampia... Io direi di andare anche a... Ehm... Meditare fino a mattina... In questa maniera intanto ci riposiamo un pochino noi... E riprendiamo le nostre pozioni... Ok... La nostra Rutilia si dovrebbe trovare da queste parti... Eccola qui che arriva... Vieni... Montiamo a cavallo e andiamo da quella parte... Ok... Ok... Mi sta piacendo ragazzi eh... Mi sta piacendo veramente... Mh... Questo mondo open world è vasto... Sto cercando di... Non farmi prendere dalla fretta di finire il gioco... Perché... Non voglio che sia così... Non voglio perdermi niente... Quindi... Allora... Quello l'abbiamo visto che la possiamo esplorare... Questa qui è l'ultima cosa che abbiamo... Su questo... Lato... Del fiume... Che poi uno è sul ponte... Quindi io direi di andare proprio... Lì... Dentro la foresta oscura... Cosa troveremo? Un cazzo di accampamento... Perché spada d'argento? Ok... Spada d'acciaio vai... Capo dei disertori? Dannazione... Questi sono proprio disertori... Quindi... Non è proprio un accampamento di banditi teoricamente no? Aia... 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 Fanno male... Fanno male... Fanno male... Rondine... Ehm... Quello è un livello 5 eh ragazzi... Andiamo di andare a colpire prima gli arcieri... Perciò almeno non ci disturbano più... Ce lo facciamo... Uh... Oggetti danneggiati... Uno che è oggetto in pessimo stato... Penso sia la nostra spada che non l'abbiamo riparata... Capo... Dannazione... Stiamo attenti che questo fa male eh... Sono ancora vivo... Molto molto vivo... Dai... Ok... Boom... Il capo dei disertori cade e ci dà un bel rasoio... Dovremmo vedere di riparare le nostre armi ragazzi... Bisogna di fare... Troppe altre cose... Soprattutto contro... Umani o simili... Perché... La nostra spada d'acciaio è bella danneggiata... Il cadavere è qui... Ok... Andiamo a esplorare quindi questa cassa... Guanti da caccia... Polvere d'alchimista... Grasso di canne... Schema... Sogno di drago... Penso sia una pozione tipo il sogno di drago... Menti lunari... Minerare meteorico... E abbiamo un altro sacco da raccogliere... Però non ci parte... Simbolino... Raccogli... Ok... E qui possiamo andare a spengere questi... Questi falò... Anche proprio per dire... Guardate... Questo è abbandonato... Non c'è più nessuno... Montiamo di nuovo a cavallo... Speriamo che non si tratti di... Scontri difficili contro umani o animali... Perché... Non abbiamo la spada nella condizione di... Affrontare appunto questo tipo di nemici... Allora qui abbiamo qualcosa di nascosto sotto al ponte... Direi di tirare fuori... Questa è spada... L'argento... Ma sono delle casse... Sì però... Deposito dei contrabandieri... Ah ok... Quindi questi sono... Glifi... Minerali... Pelle di cavallo... Abbiamo un bel po' di roba... Spirito nanica senza acquatica... Buono? Lingotto zolfo... Fegato carbone... Ok... Quindi questi qui ragazzi sono... Semplicemente dei depositi... Dove otteniamo oggetti... E non sono controllati... Perché sono naturalmente nascosti... Alla vista... Dobbiamo un pochino esplorare... Per trovarli... Quello che abbiamo detto... Lo possiamo raggiungere... Almeno per adesso... Almeno penso... Perché... Fermi tutti... Proviamo a raggiungerlo da dietro... Proviamo a raggiungerlo da qua... Forse da qui... Guardate... Forse da qui... Esatto... Sì 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 sì... Raggiungiamo da qui... Ok... Quindi andiamo a esplorare questo luogo... E... Dannazione... Speriamo di non morire... Mamia... Va bene... Curati... Vai Geralt... E entra anche in meditazione... Quando puoi... Vabbè aspettiamo... Ci vediamo fra poco ragazzi... Rieccoci qua... Ho meditato... Così abbiamo di nuovo... Le nostre... Pozioni piene... Vediamo di salire... E qui dobbiamo stare attenti... Perché dobbiamo fare tipo... Ok... Perfetto... Saltiamo... E abbiamo bene... Degli umani... Quindi... Dobbiamo cercare di... Ucciderli velocemente... Bene... Bene... Un altro via... Capo dei disertori... Un altro livello 5... Andiamo di colpirlo... Il più velocemente possibile... Aia... Aia... Perché fai così male? Dai... No... No... Via... Dai... Perché quando mi pari... Mi fai tutto questo... Stordimento... Guardate là... Ma poi è lunghissimo... Ok... E... Via... Boh... E' andata bene... E' andata bene... Nonostante... Abbiamo la nostra arma... Bella danneggiata... E' andata bene... E' andata bene... Bene... Questo lo raccogliamo... Qui abbiamo un altro cadavere... Non abbiamo raccogliato... Vediamo raccogliere anche questi... Fiorellini a giro... Perché... Magari si trovano solo da questa parte... E non abbiamo voglia di tornare indietro... Fino qua su in cima per trovarne... Non vogliamo spendere troppi soldi... Dunque... Fosforo... Qui cosa abbiamo? Abbiamo una lettera... Appunti scritti furiosamente... Fosforo... Cotone... Abbiamo... Diversa roba da raccogliere... Oren... 1... Bene... Fiala 1... E qui abbiamo la cassa... Che... Indica il punto in cui si trova questo... Quindi... Apri per... Apri... Ok... Verbale interrogatorio e schema d'acciaio della vipera... Spada d'acciaio della vipera... Ok... Allora... Andiamo a vedere proprio queste nuove cose... Quindi... L'inventario abbiamo degli appunti scritti furiosamente... Che si dovrebbero trovare forse... Perché piccio quel tasto lì? Dove sono? Mmm... Forse oggetti utili? Appunti scritti furiosamente... E per cosa dovrei morire per Temeria? Mio padre e i miei tre fratelli l'hanno fatto... E cosa ne hanno ricavato? Un cazzo di niente... Nemmeno una sepoltura decente... Papà ripeteva però che l'uomo saggio impara degli errori degli altri... Io imparerò del suo errore... Anziché morire per Temeria... Deruberò coloro che hanno ucciso i figli di Temeria... Abbiamo un accampamento in un bel posto... In mezzo al bosco... Vicino al vecchio mulino... E a breve partiremo per il nostro primo attacco... Ehm... Bottiglia d'acqua... Vabbè... Qui altre cose... Questi sono i libri che effettivamente possiamo leggere... Poi ci metteremo ragazzi a fare... Un po'... Ah ecco questo qui per esempio era molto utile... Perché ci dava la voce di bestiario del... Non lo so... Andiamo a vedere nel... Bestiario... Abbiamo qualcosa di nuovo... Le streghe d'acqua forse... No quella ce l'avevamo... Gli spettri... Non lo so... Qualcosa di nuovo ce l'aveva aggiunto... Ma non sappiamo di cosa si tratta... Ok... Abbiamo caccia tesoro e equipaggiamento... Scuola della vipera... Ok... Quindi la scuola della vipera... È una missione... A quanto pare... Caccia al tesoro... Caccia al tesoro... Equipaggiamento della scuola della vipera... Dobbiamo trovare gli schemi... Tutti i pezzi di equipaggiamento della scuola della vipera... Uno su due... Dobbiamo leggere il rapporto... Quindi andiamo in inventario... Andiamo a vedere... Per quanto riguarda lo... Schema... Inventario... Cosa la troviamo di interessante? Scusi... Abbiamo già letto il rapporto... Sì... L'abbiamo già letto il rapporto... Quindi pagina strappata... Ok... Abbiamo ottenuto un bel po' di roba... Ehm... Trova gli schemi... Non abbiamo un punto nella mappa... Quindi semplicemente lo dobbiamo trovare... Penso che l'altro... Oggetto lo troviamo nell'accampamento... Che stavano parlando loro... Partiranno per il primo attacco... Dicevano... Quindi immagino... Che l'abbiano fatto questo attacco... Ok... Quindi andiamo da questa parte... Vediamo di scendere di sotto... Sperando di non morirci... Qui dobbiamo fare tipo... Ok... Abbiamo perso un po' di vita... Vediamo di bere un po' la pozione della lunghe... Ruzzoliamo... Andiamo dalla nostra... Rutilia... E andiamo... Da quella parte... Ok... Vi ricordo che la nostra spada... Molto sciupata... Abbiamo qualcosa anche qui lungo il fiume... Guardiamo se lo troviamo prima... Ma no... E' qui l'altro punto... Quindi siamo arrivati... Di cosa si tratta? Si tratta di un sito abbandonato... Probabilmente per la presenza di un qualche tipo di mostro... Candelabro... Candelabro... Coltello da pane... C'è qualcosa? No... Allora... Perché è abbandonato questo sito? Come funziona qui il discorso? Nell'altro sito abbandonato abbiamo trovato... Non so se sei... Un gullo o un lupo? Abbiamo trovato diversi mostri... Io qui direi di salvare... Sei un orso? Cristo come sei grosso! Scusa amico... Gli orsi... Ecco... Gli orsi... Immagino che siano deboli a Igni... Sta cercando di spaventarci... E ci sta riuscendo anche abbastanza bene... Ok... Beccati il fuoco amico... Cerchiamo di schivarlo... Loco di potere difeso da quest'orso... Vieni amico... Ok... Mi stiamo facendo abbastanza danno con... Solo con il fuoco... E ciò è buono... Cerchiamo di non rimanere mai troppo... Fregati... Appunto... Oddio è andata bene... Aia... No, no... Cazzo... Ma ce l'avevo la possibilità di lanciare... Perfetto... Quindi vediamo di... Aia... Via... Intenti eh... Quando dice di fare male... Fa male questo stronzo... Cerchiamo solo di schivare... E mai di parare... Perché tanto ci... Aiii... Rondine... Via, via... Oddio... Non ti fa male la testa Geralt... Non ti fa male... Ok... No... Merda... Ma l'avevo preso... Perché non me l'hai... Considerato... Va bene... Attenzione... Attenzione... Ok... Bene... L'abbiamo preso... Attenzione... Uff... Orsi... Voce di bestiario... Aggiunta... Abbiamo osso di orso... Carne cruda e cervello di mostro... No... Non è un orso... Non è un mostro... Poverino... Abbiamo un cavallo... Abbiamo un luogo di potere... Probabilmente di potenziamento di Irden... Quindi... Teniamo premuto A... Per interagire... E per potenziare... Abbiamo ricevuto un punto abilità... Intanto... Andiamo a potenziare... Ragazzi... Il... Permette di preparare... Bere pozioni da Witcher... Dunque... Qui abbiamo... Aumenta la soglia di tolleranza... Le sostanze dell'1%... Durata pozione più 5... Gli unguenti applicati alle lame... Una probabilità del 3%... A avvenenare il bersaglio colpito... La probabilità aumenta... In base al livello dell'inguento... Vanno ferma... Quando miri con le bombe... Il tempo rallenta... Il 15%... Toleranza... Apprendere una formula alchemici... Il livello 1... Aumentare di 1... La tossicità massima... Se la tossicità delle pozioni è superiore a 0... Il tempo rallenta automaticamente... Quando i nemici stanno per sferrare... Un contrattacco... Ok... Quindi... Vediamo... Di potenziare magari... Irdan... Che aumenta la durata del segno... Numero di carica in modalità alternativa 2... Numero di trappolo in modalità normale 1... Quindi io direi di potenziare questa... E questa via la dobbiamo... Eh la dobbiamo posizionare però... Come vedete... Vabbè... Per adesso non le posizioneremo... Siamo a livello 3.415... Su... Non mi ricordo quanto... Comunque abbiamo aumentato l'intensità del segno Irdan... Per un po' di tempo... Andiamo a vedere nella mappa... Dove si trova l'altro punto di interesse... Quindi è dintorno... Subito dopo questo... Questo fiumiciattolo che esce... Ok... Rieccoci qua sulla strada ragazzuoli... E abbiamo la compagnia di... Dei ghoul... Quindi io direi di fare meditazione... Se ce la fanno fare perché non è detto... Di uno... Ah non posso farlo adesso... Infatti ci sono dei mostri intorno... Diamo la spada d'argento... Io direi di proseguire qui... E saltare oltre questa steccionata... Dare a selezionare... Ok... Abbiamo già Irdan... E vedere di... Se ci riusciamo ad affrontare questi tre ghoul... Dai... Via di lì... Via di lì... Aia... Ok... Morti? Bene... Ok ragazzi... Abbiamo liberato questa zona... Abbiamo fatto tornare gli abitanti... E ho anche riposato fino a mattina... In maniera da... Riuscire a riprendere le nostre pozioni... Ne riutilizziamo subito una... E vediamo di andare verso nord... Dove si trovano... Dove si trova un punto di interesse... Lungo il fiume... E ci sono dei drowner... Ci sono drowner... Ok... Quindi drowner... Vediamo di equipaggiare in... E cerchiamo di avvicinarci... E colpire... Ecco... La unica cosa... Attenzione che però... Scoppia... Ok... Ci è stato un attimo di... Non ho capito bene come mai... Ho fatto... Aia... Cazzo quanto fate male... Quando vi ci mettete... Via... Ok... Via... Via cazzo... Ok ne manca uno... No... Due ne mancano... Vabbè... Dobbiamo di recuperare tutto... Con calma... Tanto ci siamo ripresi... Quindi... Beviamo un'altra rondine... Sì... Il nostro segno Igna è pronto... Ok... Vieni drowner... No... Non volevo... Venire stordito... Volevo schivarti... A dire la verità... Dai... Come fai a schivare questi attacchi... Sei troppo grande... Cioè sei un drowner di merda... Devi morire e basta... Ho visto... Ok... Quindi tesoro sorvegliato... Dai drowner... Ci siamo saliti sopra... Per dimostrare la nostra superiorità... Alla situazione... Però... Volevo vedere di raccoglierlo... Magari... Ok... Guanti da caccia... Oggetto pregiato... Legnano essenzio acquati... A schema... Bla bla bla... Ok... Poi cosa abbiamo... Questa cassa... Con una sella... Poi un duriso minerale... Schema dardo multiplo... Pagina strappata... Decotto di... Ok... Poi abbiamo... Dentro a questa cassa... La vecchia pelle di capra... Soluzione di mercurio... Polvere dell'alchimista... E basta... Direi... Anche perché abbiamo già raccolto diversa roba... Ok... Andiamo a vedere il nostro inventario... Come... Dunque... Questi quanti... Molto buoni... Ne mettiamo... Questa sella... 20 vigore... Ci dice... Mentre la nostra... Penso sia uguale... Sì... Quindi... Va bene... Andiamo a... Vedere... Nella mappa del mondo... Dove si trova un altro punto... Ce n'era un altro qui nei dintorni... No... No... Sono finiti... Sono finiti... Sono finiti... Ok... Ok... Va bene ragazzi... Ah sì... Perché questi erano due... Non era uno... Erano due... Infatti... I gul sono arrivati tardi... Perché l'orso era a protezione di questo... Non c'entrava niente con il sito abbandonato... Ok ragazzi... Abbiamo completato... Perché c'è il coso di invidia... Vabbè... Non lo so... Abbiamo completato l'esplorazione della zona sud... Cioè in pratica ci mancano... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Punti di interesse... Tutti... Raccolti in quella zona là... Per quanto riguarda invece tutta l'altra zona... Abbiamo esplorato tutto... Tutto quanto... E questo... È ottimo... Siamo riusciti ad ottenere davvero dei buoni risultati... Anche... Per quanto riguarda la nostra esperienza... Siamo a metà del livello... Tra il livello 3 e il livello 4... E adesso è giunto il momento di tornare all'opera... Con... La bestia e il bianco... Il bianco frutteto... Si trova da quella parte... Abbiamo incendiato la roba a caso... Si trova da quella parte... Subito dopo il bianco frutteto... Dobbiamo andare a raccogliere i... I fiori... Non mi ricordo... Quelle erbette che crescono sul fondo del lago... Del fiume... Per riuscire a... Attirare il grifone allo scoperto... Il grifone è maschio... Abbiamo ottenuto un po' di informazioni... E siamo rimasti d'accordo con Vesemir... Che una volta ottenuta per l'erbetta... L'avremo risentito... Per metterci d'accordo... Ok ragazzi... Questo episodio termina qui... Nel prossimo episodio... Finalmente ci dedicheremo al grifone... So che è stata... Ci ha voluto un po' di tempo... Però preferisco fare in questa maniera... E... Appunto... Allenare bene il personaggio... Riuscire a fare tutte le missioni secondarie... E esplorare tutte le possibilità che abbiamo nella zona... Prima di dedicarci alle missioni principali... Ragazzi... Come sempre... Se il video vi è piaciuto... Mettete un mi piace... Lasciatemi un commento... Ed iscrivete a Break2Play... Un saluto a tutti da Nicolas... Ci vediamo nel prossimo video... Un saluto a tutti...